E' il percorso dei magi, è il percorso di tutti i santi della storia. E' il percorso di tutti i santi della storia, è il percorso di tutti i santi della storia. Anche le notti più scure, è Gesù, è la stella radiosa del mattino, il sole di giustizia, il fulgore misericordioso di Dio, che ama ogni uomo e ogni popolo della terra.